Fino al 10 settembre, Castellamonte è il palcoscenico della nuova edizione della Mostra della Ceramica, la 62esima. L'amministrazione comunale, insieme al curatore Giuseppe Bertero, già responsabile delle precedenti mostre, hanno dedicato l'edizione 2023 alla città di Faenza, a tutti gli amici faentini e a quelli dell'intera Emilia-Romagna colpiti dalla recente devastante alluvione. La mostra è una manifestazione unica nel suo genere, caratterizzata da molteplici articolate esposizioni distribuite su tutto il territorio comunale. La 62esima Mostra della Ceramica ha aperto i battendi e durerà fino al 10 settembre qui a Castellamonte. Una mostra che ha ormai raggiunto le sue 62 primavere, una bellissima mostra, che ha una serie di sedi istituzionali ed altre invece private, ma tutte da visitare. Qui ci troviamo all'interno di Palazzo Botton, dove vi sono ben cinque collezioni da Mirko Di Nicolò alle nostre scuole, ai due artisti di Matera che saranno nostri ospiti domenica 3 settembre, alle ceramiche del Marocco. Quest'anno il Marocco è lo stato ospite internazionale. Anche qui, il giorno 2 settembre, lanceremo invece quello che sarà la collaborazione del 2024, che sarà la Cina. Al piano terreno c'è il concorso Ceramics in Love, e poi abbiamo il Teatro Martinetti con la raccolta dei fischietti ed altre cose. Abbiamo la Rotonda Antonelliana, con tanti artisti italiani e stranieri. Sotto Palazzo Antonelli, sotto al Comune, abbiamo le stufe di Castellamonte, stufe normali e anche stufe artistiche, dei nostri produttori, che sono famose in tutto il mondo. Mentre per quanto riguarda i siti privati, abbiamo intanto tutte le botteghe aperte, ma una mostra alla Casa della Musica, il Cantiere delle Arti aperto e la Fornace Pagliero, che è un sito di archeologia industriale. Eventi collaterali invece, questo fine settimana, quindi il 26 e il 27, avremo il concerto di Ambrogio Sparagna col coro baiolese sabato sera 26, mentre il 27 avremo il poeta paesologo Franco Arminio. Durante il pomeriggio sarà presente in città l'attrice Anna Foglietta. Per quanto riguarda invece il fine settimana, il weekend del 2 e del 3 settembre, voglio segnalare e voglio sottolineare la collaborazione della città di Castellamonte con città metropolitana di Torino. La Corriera della Reciprocità, che è una corriera gratuita, porterà le persone in un viaggio, in un bel viaggio, che parte da Torino e arriva a Castellamonte, per far sì che essi visitino Mangiar per Vie, che è la manifestazione più grossa che si terrà in quei giorni, ma per far sì che visitino tutte queste nostre eccellenze.